Buon pomeriggio ragazzi e ragazzi, allora ci siamo. Stamattina ho spiegato con l'aiuto di un powerpoint il capitolo sulla rivoluzione scientifica. Adesso come facciamo ogni volta, ci facciamo un giro sul libro, sul capitolo, vediamo le parti che io ho ritenuto importanti da sottolineare e da riquadrare, potremmo dire, con questa nota importante o importantissimo che trovate sotto la freccia. Allora, intanto siamo nel 1600, siamo nel 1600, è un secolo questo in cui si afferma la rivoluzione scientifica, che sarà la madre della rivoluzione industriale. Cominciamo un po' a ragionare su questi eventi, rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale. Nel 1700, alla fine del 1700, scoppia la prima rivoluzione industriale. La nascita delle industrie, la nascita delle prime macchine a vapore che si muovono autonomamente e non fanno ricorso alla forza muscolare umana. Queste macchine sono frutto dell'ingegno e dello studio, della sperimentazione e della scienza. Quindi la rivoluzione scientifica. E' una vera e propria rivoluzione, perché prima del 1600 la scienza aveva fatto tantissimi studi. C'erano tantissimi studi di matematica, fisica, chimica, medicina anche. E studi sull'ingegneria. Ma un personaggio italiano, toscano, Galileo Galilei, dà un impulso nuovo alla scienza. E mettendo in campo una vera e propria rivoluzione. Bene, cerchiamo di capirci qualcosa in più. Partiamo da molto lontano, partiamo dal sole, partiamo dal sistema solare. Per gli antichi era il sole che girava intorno alla Terra. Il libro ci dice, ci spiega un aneddoto, ci racconta un aneddoto a pagina 136. Io ve l'ho inquadrato con questa nota importante. Il mondo della scienza, influenzato dalla Chiesa, rispondeva alla domanda sull'universo in un modo molto preciso. C'era la Terra al centro, il sole che girava intorno alla Terra, quindi la Terra rimaneva immobile, e intorno alla Terra si muovevano queste sfere di cristallo, che altro non erano che i pianeti. Oggi se qualcuno ci rispondesse così, noi probabilmente scoppieremo a ridere, e avremmo anche ragione a farlo. Ma fino al 1600, la scienza era fortemente influenzata dalla Chiesa. In un passaggio della Bibbia, il condottiero ebreo Giosuè aveva detto al sole, fermati. E il sole, secondo quanto scritto nella Bibbia, si era fermato. Ma la Bibbia, noi sappiamo, è qualcosa che non può essere messo sullo stesso piano della scienza. I libri religiosi sono in un posto, e quelli della scienza sono in un altro. Poi questi possono intrecciarsi tra loro, come la storia delle persone si intreccia, no? Ma una cosa sono le credenze, sono i riti, sono i passi anche contenuti in un libro grandioso, straordinario come la Bibbia, e un altro invece è la scienza. La scienza si poggia su delle verità, delle verità scientifiche. Bene, Galileo che cosa fa? Comincia a osservare il cielo. Comincia a osservare il cielo, parte da un presupposto. Parte dal presupposto che c'è la Chiesa, che spinge sulla teoria tolemaica, cioè quella del sole che gira intorno alla Terra, e la Terra che sta al centro dell'universo, immobile. Mentre invece poi c'era un'altra teoria, quella di Niccolo Copernico. Niccolo Copernico, era polacco, era un matematico, aveva formulato nel 1500 una teoria. In questa teoria, formulata da Niccolo Copernico, la Terra non era immobile, ma non era al centro dell'universo, ma al centro del sistema appunto solare c'era il sole, e la Terra insieme con gli altri pianeti girava intorno. Ma Copernico non aveva alcuna prova di questo. Galileo Galilei parte da un semplicissimo, oggi noi diremmo, stratagemma per capire se fosse la Terra a girare intorno al sole, insieme con gli altri pianeti. Inizia ad osservare il cielo, e lo fece grazie all'utilizzo del canocchiale. Il canocchiale, che era un'invenzione che gli olandesi molto probabilmente, secondo alcune teorie storiche, avevano preso dai cinesi, o comunque dall'Asia più lontana all'Europa, quindi dall'Asia più orientale, e che i nobili utilizzavano per sclutare il cielo, e sclutare i vicini di casa, così per divertirsi nelle serate d'estate. Galileo Galilei invece comincia ad osservare il cielo, e qui comincia a fare degli studi, comincia a calcolare, e quindi a questo punto lui capisce che la Terra si muove intorno al sole, e muovendosi compie una rivoluzione intorno al sole, che dura 365 giorni, tanti sono i giorni del nostro calendario, non a caso, e la rotazione intorno a se stesse, e così fanno tutti gli altri pianeti del sistema solare. A questo punto c'è un divorzio, il libro lo chiama chiaramente un divorzio, tra la Chiesa e la scienza moderna, la nuova scienza, quella che Galileo Galilei ha di fatto fondato. Galileo Galilei viene processato al Tribunale dell'Inquisizione, che era nato, come vi ho spiegato questa mattina, e come abbiamo visto durante la spiegazione sulla controriforma, era nata proprio nel Concilio di Trento, per inquisire, per processare tutti coloro che si professavano, professavano dottrine o professavano idee diverse da quelle che erano gli insegnamenti ufficiali della Chiesa. Quindi Galileo Galilei viene processato, e viene costretto ad abbiurare, e quindi ritratta, rinnega tutte le sue posizioni scientifiche. Viene condannato al carcere a vita, che gli fu appunto assegnato, concesso agli arresti domiciliari, nella sua casetta di campagna di vicino Firenze, di Arcetri. Bene, c'è una spaccatura a questo punto. Galileo Galilei impone un nuovo metodo, ovvero il metodo sperimentale, che è quello che noi oggi utilizziamo, e che utilizzano i nostri amici ricercatori in tutte le università, in tutti i centri di ricerca del mondo. Se oggi noi siamo arrivati in tempi record ad avere un vaccino anti-Covid, lo dobbiamo a questo metodo sperimentale. Tre verbi. Il primo verbo, osservazione, osservare. Secondo verbo, studiare. Quindi studiare il laboratorio, e fare tutti i possibili calcoli matematici, che possono portare a formulare prima delle ipotesi, e poi a formulare, terzo verbo, le leggi. Quindi osservare, studiare, formulare. Fondamentale, il laboratorio. Galileo Galilei è il primo scienziato a costruirsi da solo un laboratorio dove simula ciò che guarda, ciò che osserva nella natura. Bene, Galileo Galilei è impressionante in questo suo nuovo metodo, e si diffonde con una rapidità impressionante tra i filosofi, tra i chimici, tra gli astronomi, che prima erano solo astrologi, cioè si divertivano a fare gli oroscopi, e invece adesso comincia ad esplorare il cielo, e il sistema solare, tra i botanici, tra coloro che classificavano le piante locali ed esotiche, anche tra i medici. Tra i matematici, se tutto deriva dalla matematica, dice Galileo Galilei, e tutto è regolato dai calcoli matematici, da un calcolo matematico, a questo punto i matematici utilizzano, iniziano ad usare, dei segni che valgono per tutti, i segni basilari universali, che sono quelli dell'addizione, della sottrazione, della moltiplicazione, della divisione. Bene, abbiamo visto poi tanti altri scienziati entrano in questa scia di Galileo Galilei. Intanto Robert Boyle, che è quello che crea i fondamenti della chimica, studiando le proprietà del gas. Pascal, è quello che è il matematico che inventa il primo calcolatore meccanico. Jean Napierre, è quello che inventa le tavole logaritmiche, che diventano strumento essenziale dei capitani di mare. E poi, il fisico italiano evangelista Torricelli, è quello che ci permette di osservare quanta umidità c'è nella nostra atmosfera. È inventato il barometro. Anche nel campo biomedico ci sono delle grandissime scoperte. Per esempio, il ricercatore italiano Marcello Malpighi inventa, non lui, ma con l'invenzione del microscopio, permette a Marcello Malpighi di scoprire l'esistenza dei globuli rossi nel sangue e quella dei capillari. Si conclude qui questo nostro percorso. non dimenticando però Isaac Newton, colui che appunto abbiamo visto questa mattina nel nostro powerpoint, ha scoperto le leggi gravitazionali. Da una semplice osservazione, passerà alla storia come lo scienziato a cui cade una mela addosso. Ecco, vedete, il metodo sperimentale ci insegna proprio questo, Galileo Galilei ci insegna proprio questo, che si parte dall'osservazione. Allora, gli ultimi 30 secondi li dedico a farvi vedere le pagine che ho sottolineato di questo capitolo, il declino dell'Italia e la grande svolta religiosa, vi assegno da fare il riassunto come esempio la mappa concettuale, sto fermandovi molto su questo grandissimo personaggio che è Galileo Galilei. grazie a tutti. Grazie a tutti. e anche qua poi vediamo nel paragrafo 6 che era saltato vediamo che è raccontato ciò che abbiamo studiato questa mattina abbiamo ripreso qualche secondo fa cioè la formula della legge di gravitazione universale studiata da esperimentata da Newton andando avanti nel libro proprio nel secondo di chiusura trovate una sintesi come sempre e anche degli esercizi di aiuto allo studio che come sempre facciamo perché ci possono aiutare grazie per l'attenzione di chiusura